musica 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 forse alle allucinazioni non può essere musica 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 ragazzi basta ehi musica Domenico oggi è proprio strano ok avete combinato un bel casino oh mio dio la mia rosa no ok però adesso mettete tutto a posto e facciamo finta che non è successo niente va bene va bene dopo dopo no 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 più tardi domani Domenico come manca? ok ok si si io raccolgo i soldi io ho sistemi i cuscini la sedia anche la sedia è la rosa ok cosa deve fare una per farsi ascoltare buongiorno ragazzi io sono eric e io sono Domenico e chi siamo eric e chi stiamo Domenico e lui è santo mio fratello come potete vedere dall'altezza eric già l'hai fatta questa battuta nella video comunque oggi mio fratello è qui per un altro video perché oggi metteremo alla prova Domenico solamente Domenico infatti Domenico oggi dovrà provare il suo amore dimostrando di sapermi riconoscere anche da bendata si ma è difficile no che non lo è Domenico tu dovresti riconoscermi tra milioni e milioni di persone io sono l'amore della tua vita ma eric scusami un attimo ma sarò bendata non è così facile se sbaglio qualcosa non significa nulla poi ti somia pure è tuo fratello eric io non rischierei proviamolo subito e vediamo prendati forza forza vado a prendere la benda io non sono tanto sicura di questa cosa ci vedi no eric non vedo niente sicuro quanti sono quanti sono ok va bene che ne so non ci vede aiuto aiuto piano aiuto a posto ok sto qui eh sto qui voi mi si vieni che cosa dite ce la farà o sbaglierà tutto ma a proposito voi siete tutti gli insiemini perché se non siete gli insiemini dovete esserlo iscrivendovi a questo canale attivando la campanellina e lasciando un bellissimo like a questo video ok che cosa devo fare esattamente ora cominciamo per prima cosa dovrai riconoscermi solamente toccando i miei capelli capelli ma li avete uguali ti farò toccare sia i miei capelli che quelli di santo e tu dovrai dirmi chi sono io ok va bene se proprio devo ragazzi che state facendo ehi ehi posso toccare i capelli qualcuno forza dove sei a destra o a sinistra ecco capelli no no non sei tu non sei tu vediamo l'altro dov'è tu sei sei tu ehi non hai scoppiato però è delinato vai vai questo ce la posso fare bene bene questo era facile ora facciamo qualcosa altro adesso devi riconoscere l'elite di questa stanza dal profumo dall'odore è un profumo si dal profumo dall'odore o dalla puzza ok 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 va bene ma va anche il primo dove siete non so di niente bu proviamo l'altro ma sono pure un po' raffreddata però io non vale ma non sapete di niente sempre meglio non sapere di niente che fare buzza comunque secondo me lo posso risentire ehm si ok il primo quello che era venuto per prima vediamo se è troppo di nuovo non sai di niente ma questo era il primo che era venuto ah rispondetevi ragazzi si Dominique si era il primo io dico il primo di tutti quindi il primo di tutti era Eric si ok hai indovinato anche questa volta si si ma non sapete di niente comunque ah事情 ahaha magari cosa devi indovinare encuentri abbia tipo a cosa è troppo brava dovete di me lo trovo a cosa ok ma cosa stai discutulando adesso tu dovrai indovinare il tuo ragazzo il tuo ragazzo di una vita da cosa dal polpaccio ok polpaccio ma dal polpaccio sicuro dov'è il polpaccio quà Polpaccio, ma che ne so io, boh vediamo l'altro, polpaccio, ecco, questo, questo è come fa, bravo, 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 vieni qua, ok forza, Dominique bendati e non cantare vittoria, adesso faremo qualcosa di molto più difficile, forza, non ho paura, adesso dovrai indovinare chi è il tuo ragazzo, solamente toccando la mano, ok ce lo posso fare, forza, avanti il primo, dove è la mano, datevi la mano forza, una mano, una mano, ok vediamo l'altra, 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 l'altra mano forza, mano, siete lenti però dai, ma siete solo due, non è che siete in venti, Ehi, dov'è, ma cos'è, Ehi, 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 ma cos'era la cosa che ho toccato, la mia mano, la mia mano, la mia mano, Dominique, la mia mano, ma no, era di plastica, Eric mi hai fatto uno scherzo, no, non ti ho fatto uno scherzo, ma non era la mano, di sicuro non era la tua, non penso che tuo fratello abbia le mani di plastica, va bene, allora riproviamo, una l'ho vista, l'altra mano, l'altra mano, ok, secondo me la prima, è giusta, sbagliata, è giusta, Ehi, è giusta, com'è Eric? Ehm, il secondo chi era invece? Beh, se tu eri il primo, il secondo era santo, eri tu? No. E chi era, scusa? Chi era il secondo? Ero io, Dominique, ero tutte e due volte io! Mi sembrava familiare, è solo che non volevo aggiardare. Sì, quindi mezzo punto. No, no, non vale, ho indovinato! E poi c'è anche da dire che l'altra persona era... Lui! Poco fa mi hai colpito in faccia con quella mano. Uffa, io ho indovinato comunque. Forza, vai avanti, ti dimostrerò che sto tutto. Ora, Dominique, dovrai riconoscere il tuo ragazzo solamente dalla guancia! La guancia? Sì, Dominique! Ma a che senso ha la guancia? Non è poi così difficile, lo conosce ormai? Eh, certo, mi conosce. Ma la guancia, hai rotonda! Hai ragionissima, santo. Mi conosce. Ma è tu, complotto! Se mi conosce, mi riconosce anche dalla guancia. Ok, 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 ok. Anche dalla guancia. Mi chiamo la guancia. Che io? Ero disperi. Disperi. Che state facendo? Devo. Ragazzi! Non è che il mio bandoletto mi lasciate qua! No, no, no. Dov'è la guancia? Oh... Cosa è toccato? La telecamera! Sì, la telecamera! Eric! Dov'è la guancia? Dov'è? Dov'è la guancia? Ah! Ops! Eric! Ma sei tu! Ma sei venuto lo schiaffo! Tu sei base! No, rifacciamo! Chiedi, 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 chiedi! Ok, Eric! Facciamo che metti tu la mano nella guancia. Ok, guancia, 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 gommosa. Sì, gommosa. Ok, metti l'altra guancia. Ma chi è che mi tocca? No, dai, non scherzate. Dai! Guancia. Secondo me, la prima guancia era quella di eri. Ho indovinato? Oh, mio! Stai giusto! Ma vediamo come te la cavi ora. Adesso dovrai indovinare chi sono. Dall'orecchio! L'orecchio! Dall'orecchio! Sì! L'orecchio! Eh, vediamo! Ai, l'orecchio! Dove siete? Ok, faccio in orecchio. L'orecchio. Sì! Vabbè, vediamo l'altro. Ma è uguale. È sempre lo stesso! È sempre lo stesso, Eric! Ah, dove sei? Rispondi. No, Dominique, non è sempre lo stesso. Erano due orecchi diversi, sicuro? Sì. Eh, beh, se sono uguali... Forse è il secondo? Hai sbagliato, Dominique! Hai sbagliato! È il secondo, era quello di mio fratello! E l'altro è che non ti avrebbe riconosciuto. Ma era di sì. Ma poi, ma guardateli! No, no, mettetevi accanto. Ma siete uguali! Avete lo stesso orecchio! Ma è uguale, Eric! È una cosa buona. Non lo so. Ma io sono giustificata. È lo stesso orecchio. Il naso, il naso, Dominique! Proviamo col naso. Vediamo se ci riconosci dal naso. Coprite il naso, santo. Ecco, così non lo vedo. Ok, il naso. Questa qui sarà l'ultima sfida. Quindi concentrati per bene, Dominique. Va bene, ma tanto sto vincendo. Dov'è? Dov'è il naso? Non c'è niente qui! Ma questo non è un naso? Sì! Non è un naso, è un dito! Dai! Questo non è un naso! Dai! Che cos'è? Dai! Dai, però non è il naso! Ma è il naso, è veloce! Degli un naso! Cos'era quella voce? Ecco, questo è un naso. Questo è un naso. Perché vi state tenendo la mano in due? Questo è un naso. Ma quanti siete? È sempre lo stesso naso! Certo! Ok, l'altro adesso. Ma è quello di poco fa. Questo è il naso! Questo è il naso! Questo è il naso! Questo è il naso! Ha vinto! Sono bravissima! Ok, devo dire che effettivamente... Sono andata brava! Sì! Mi sono andata brava! Mi sono andata brava! Mi sono andata brava! Mi sono andata brava! Non mi sono andata brava! Non mi sono andata brava! Mi sono andata brava! E noi sono andata brava! Ciao ragazzi! Mi sono andata brava! Ciao a tutti! Ciao bellissima! Buongiorno! 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 Ci vediamo domani con un nuovissimo video! Ciao! 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 Mi sono andata brava! Ciao! Ci vediamo qui! Pizze